Avvocato, mancano ormai pochi giorni al referendum eppure non c'è stata una grossa divulgazione presso la popolazione circa il referendum stessi. Come vede questo frangente storico? Sulla poca comunicazione male, nel senso che è un dato di fatto che c'è stata poca comunicazione e forse varrebbe la pena interrogarsi sul perché non si è voluta dare comunicazione. E già questo è un aspetto che dovrebbe a un cittadino mediamente avveduto metterlo in allarme e orientarlo per una scelta che intanto è quella di andare a votare, di prendere la scheda, di entrare in cabina e poi il sì o il no in base alla documentazione sui quesiti referendari. Se non si raggiunge il quorum o se, come io auspico, non dovessero vincere i sì, certe riforme, definiamole così, sarebbero impossibili da realizzare da qui al prossimo futuro. Eppure alcune sono, tra virgolette, imposte da determinazione del Consiglio, per esempio, dei Ministri dell'Unione Europea. Quindi su alcuni aspetti avremo necessità di intervenire. La verità è che non si sarebbe arrivati al referendum, cioè non si sarebbe arrivati alla necessità di chiedere ai cittadini in strumento di democrazia diretta se il Parlamento avesse funzionato, per come il Parlamento avesse funzionare. Ma quello è un altro problema. Noi abbiamo un Parlamento fatto non di eletti ma di nominati. Andare a votare, soprattutto andare a votare per il referendum, dà a ciascuno di noi un potere enorme, cioè il potere appunto della libertà e dell'autodeterminazione.